Rino per Sartore, abbastanza incomprensibile, vuole partire il Cesena Prestia, allontana un'altra palla nella zona di Corazza, non la prende lui, la prende Quaini in anticipo poi sbuca Morello in mezzo al campo Stronati, non arriva, Brambilla, Silvestri allontana, colpo di testa di Quaini, controllo di Di Gesù attaccato da Spendi, deve appoggiarsi su Danovaro, si torna addirittura da Battagliola Oddi la tiene in campo, la indirizza nel nulla però, la raccoglie Adamo, può ripartire un'altra volta a Cesena scade anche il secondo nei quattro minuti Adamo, Ciofi, Bumbu, Silvestri, con l'apertura a destra dove Adamo avrebbe un po' di spazio se lo prende Oddi, gran controllo di Adamo, cross addosso a Oddi, Brambilla imbucata, forzata da Brambilla per Adamo, letta però da Fiorini, di nuovo Brambilla, altro giro dietro Prestia, Silvestri si propone, Prestia preferisce rimanere per il momento da questo lato Ciofi, Brambilla Adamo, gioca dentro, tacco, tentato da Corazza, Bumbu, si è inserito, perde palla su Currarino che l'allontana nella zona di Morello, altra pressione regolare da parte di Adamo, ultimo tocco nello stesso esterno del Cesena, rimessa laterale, Fiorezzuola, stronati almeno 3-4 metri più avanti rispetto al punto di battuta originale rimessa laterale per il Fiorezzuola con Oddi, si è andato anche il terzo inizia l'ultimo minuto, anzi è iniziato l'ultimo minuto di partita, la palla c'è la Fiorezzuola con le mani di Oddi cercato Morello allontana Prestia, sui piedi di Udo, che va largo da Mustac, vediamo se arriva lui o da Novara arriva da Novara in anticipo, riesce anche a sombrerarlo e poi a controllare lungo per stronati, troppo lungo, raccoglie Lewis Adamo una delle ultime palle sua, cercare Spendi che prende posizione contro Oddi riesce anche a toccare con la testa Spendi, sterza, Oddi lo bracca strettissimo alla fine, li porta via il pallone, gioca per Morello, ci sono una dozzina di secondi per il Fiorezzuola ripartenza di Morello, saltati due uomini, non il terzo che è Silvestri con falla